grazie, non si stava regolando non si stava regolando no, 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 mi sto troppo senti in curva cioè questo qua lo fai mo girare tre ore e mezza porco due ma se non è che faccio questa cagaria mi passi in ciglia, una bottiglia sotto il numero civico e non c'è non so, so no, ma v*****o allora ragazzi, può bastare può bastare qui perchè fra 10 minuti noi abbiamo un impegno ahahahahah benvenuti nella hotline grananas oggi siamo qui per fare un nuovo video sulle chat secs ohhh, hotline l'importante è che non diceva limone no, e oggi il nome che daremo è cerchiamo intanto di trovare la gente tipo di cercare chi sono, di capire la loro identità e fargli credere che siamo sua moglie ok? l'avvocato quindi, come ci chiamiamo katyusha basta katyusha la baluscia eh beh, c'ha un senso proprio katyusha 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 no, facciamo 83 katyusha 83 ok eh, allora tettona riscrivimi chi mi fa godere e schizzare su kick ho cazzo grosso cagliari ah ma già mi hanno scritto? cioè vedo quanto s'entrago eh come stai? hai voglia di chattare? rispondi non solo di chattare ecco 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 ecco, già l'ho sgravato eh no, Paolo non perdo tempo molto rattristato cazzone Roma, ciao di dove? Roma, tu cazzone Roma vabbè, vabbè, fanno finta che non lo sapevo Luca Monza Brianza Monza mazza ciao non mi piace cioè devi dire qualcosa per essere degno di parlare con me Roma, so Tuscolana Pony mi da vicino Pony ho io capito chi è immagina l'altra parte poi c'è sta mio padre che sta io Tuscolana mi chiamo Morello che dice ciao Katyusha da da Roma tipo bono io pure anche se ora sono in aeroporto a Sassari cioè questo qua dall'aeroporto sta su spero che non sei, spero che non sei giovanotti sennò stai a faffari eh dove? ah e perché? viaggio di lavoro? io abito proprio a Giulia Riccola sei italiano o straniera? daniera ma sto in Italia da dieci anni allora per lavoro se torno a Roma cioè più o meno parto dalle 19 parlo ah ancora non sei arrivato? dal 1930 si è perso lunga la strada proprio un cazzo ciao sono un ragazzo come va? cosa hai detto qui? piedi il mio nonno lo sono perso lo hai visto? t-chef t-chef ah è di bello ah io preferisco io rubbio io rubbio 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 scrappo i server i server rischia sono un hacker scusa eh è la lingua ancora capisco poco la lungo guarda sempre master la lingua lunga master chef con S beh perchè l'italiano non lo so il chef è francese ma guarda qual era quello lì che gli ho detto che sa che è da giragricola questo qua adesso dovevi dire? che zona? no san giovanni è troppo da ricchi san basilio zona ananina qualcuno ma che cazzo gli ha chiesto se il singolo geloso caro muh famo sborà ma mamma che schifo mamma mia cosa indossi? ci sei? sei in leggings per caso? no come ero finale fantasy del uomo ho capito ti piace fare anche nuove conoscenze si che carino scusa ti posso chiedere una cosa un po' personale? dimmi tutto ecco ecco cari che c'è che babbara che c'è che c'è che c'è che c'è che c'è che c'è aspetta andiamo da quello lì di roma ti vado di farci in giro al parco? lo conoscivo? lo conoscivo? lo li ha chiesto? ti potremmo bere un caffè? troppo bene lo conosco il parco? lo conosco? se ti piace un'idea? si io lo conosco sotto il porto lo conosco bene lì dalla parte del tiger oggi non ho incontrato questo nooo guarda solo perchè stasera c'è stata Roma se no davvero è qua è anche una fantasia sempre sul campo della danza no si chiama macrogino gino gino e gina gino filia davanti alla fiora fioraglio quelli che fanno angolo fanno angolo poesia mamma mia regata comunque una svolta rara scopriamo a macrogino filia che gusto ti piace? gusto pelle da no che non si trova in gelateria ma lo puoi trovare a Lidl con lo scontro? mi sentiamo dai che hai capito mi piace il pistacchio tirati bel che coppe allora senza impegno e non hai di meglio da fare se preferisco andare subito al sodo si diceva si ho bisogno sinceramente non sono troppo spacciata spacciata sei russa ma come fai? troppo spacciata spacciata facciamo spacciata a mo lo passa a prende da qualche parte vediamo se è da Roma che dico stasera le 8 e mezza hai dato il quattro e 45 stasera hai da fare? wow ne hai altre perfezioni ho pensato di che vieni dimmi tutte le tue che io ti racconto le mie basta con il grasso di foca però per favore stasera da fare si c'è una ragazza con cui si c'è a Roma e questa ragazza no non io lo diei perché sennò capisce si chiama Roma vero? mi stanno dando tutti buca adoro da impazzire legare i piedi di una ragazza ma che indossa collante autoreggenti e leccarli i piedi facendo il solletico sotto la pianta con la lingua umida e calda e con le unghie e più ridi di sofferenza più go ti piacciono gli uomini e le donne perchè qui c'è un po' di tutto potrebbe anche piacerti entrambi e dire il vero io dico che ho preferenza per le donne anzi solo le donne mi sa che ti sto annoiando mi sa che ti ho perso quanto sei paranoico è più forte di me se poi indossa la ballerina con scarpe è il top oppure legare la vittima con le mani dietro la schiena e farla godere mentre la tengo con la testa sott'acqua e poi ti indossa una capita ballerina classica è ancora efficientante questo è sociopatico perchè legare la vittima non è una cosa da dire comunque io facevo ballerina tuo nick 3750 auguri un omaggio per te ho paura no 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 dai vediamo no 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 t'ho detto non lo vedi che schifo non ti ha detto oddio mio no fa ancora te l'omaggi ognuno ha la sua ok come ok romanova romanova è questa cosa l'uomo k. stefaneico no quello lì è currino stefanova no grazie non si stava regolando non si stava regolando no 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 mi sto troppo senti in curva cioè questo qua muro tre ore e mezza porco due a troppo caro porco deslocamo guarda ma finimo qui portapasticcini e mimosa per favore ma sai che faccio questa cacarina mi fa sicilia bottiglia sotto il numero civico e non c'è che trovo con no ma vi no no andiamo a vedere questo che è pasta voglio vedere chi è c'è andiamo no calcola no perchè io scoppia ridere lo capisce lo capisce troppo stacca 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 stanno raggiando stacca stacca questa immagine è bello da scopare la vecchia oddio oddio vabbè allora ragazzi che può bastare può bastare qui perchè fra 10 minuti noi abbiamo un impegno allora vabbè vabbè noi andiamo in questa via che abbiamo detto che voi non sapete ovviamente e ci stiamo andando fra poco e vi faremo sapere come è andata a finire se su instagram vedete foto con qualcuno è lui se ci vedete morti in qualche modo piace vedere comunque ragazzi dai grazie è tutto speriamo che questo video vi sia piaciuto ci vediamo al prossimo ciao 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 ciao